L'Assemblea di Palazzo Cesaroni ha approvato con 20 voti a favore un no, quello del consigliere Valentino e quattro astenzioni, quelle di Nevi, Rossi, Mantovani e Monni, il disegno di legge enorme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Un testo che è il risultato di tre differenti proposte di legge, aventi come obiettivo comune il contrasto al gioco d'azzardo, la prima fu redatta da Sandra Monacelli dell'Udc, la seconda da Oliviero Dottorini, la terza dai consiglieri Zaffini, Desio, Lignani, Marchesani, Mantovani, Monni e Rossi. Le finalità della legge sono quelle di prevenire l'insorgere di dipendenza da gioco e contrastare il gioco d'azzardo patologico sostenendo le persone affette da tale patologia e le loro famiglie attraverso un aiuto da parte delle strutture sanitarie, l'istituzione di un numero verde per segnalare le problematiche, il coinvolgimento e la formazione di associazioni operatori del settore, l'informazione estesa a cominciare dalle scuole, la distanza di almeno 500 metri delle nuove sale da gioco da scuole, centri per anziani e altre strutture vulnerabili. La norma finanziaria prevede una dotazione di 120 mila euro e sgravi fiscali, meno 0,92% della liquota IRPEF per i gestori che rinunceranno alle slot machine potendo freggiarsi anche del marchio no slot, così come a gravi più 0,92% per chi invece le installa. Su questo punto le rimostranze di parte del centro-destra regionale, Nevi, Rossi, Valentino, Mantovani e Monni, favorevoli all'impianto della legge dove prevede il contrasto al gioco d'azzardo, la massima sensibilizzazione sul tema, ma contrari a una imposizione fiscale per gli esercizi commerciali che scelgono le slot machine.